Ciao, se siete nuovi a questo canale, sono Gabriele e benvenuti al mio canale YouTube sulle musica di Guitare e classica. Sono un guitarista con 17 anni di esperienza in musica. Nel mio canale, mi piace share un tutorial di Guitare, revisione di musicali di strumenti e molto più. Ma questo non è tutto. La mia passione per la musica di classica mi è per esplorare questo tipo di musica sulla Guitare e voglio share le mie performanze e le imparazioni con voi. Oggi presento a voi il D'Addario Pro Winder, il accessorio rivoluzionario che farà le strumenti cambiando una esperienza rapida e semplice. Uno dei molti problemi che ogni guitarista faceva cambiando le strumenti, ma perché si fa molto tempo e perché la rotazione di ripetizione del tono causano alcune difficoltà, quindi proviamo a cambiare le strumenti così infrequentemente possibile. Sono le principali avvantaggi del Pro Winder per una classica guitarista. Sped. Oggi la cambiata lunga strumenti nella sessione. Con il Pro Winder possiamo cambiare le strumenti strumenti in no time at all. We no longer have to spend many hours manually winding the strings. The Pro Winder is easy to use. Adaptability. The Pro Winder is compatible with the most type of guitar, including acoustic, electric and classical guitar. Regardless of the type instruments you play, you can enjoy the benefits of this fantastic accessory. But like any instruments, the Pro Winder also has limitations. Let's see together what the cons are. The Pro Winder can be additional expense for the guitar player who already have to buy strings and another accessories. However, many guitar players feel that the price is right for the efficiency and the comfort it offers. Today the price on Amazon is 13. In conclusion, the Pro Winder is an incredibly useful accessory to simplify strings changing. If you are looking for a convenient acquis solution to keep your guitar, the Pro Winder could be the ideal choice for you. Thank you for watching this video. If you like it, please leave me a like and subscribe to my channel for more interesting content. See you next time!